Sì o porco, pure là, grazie, vi bello superiore, ma si vede 18 mesi, vuole versi tu l'anima. No, no, sei un fenomeno, ma molte giocate che fai, poi con tutti i siti, viene il dubbio. Eh, lo so, vi, però, lo so, lo so, avrei dubbi anch'io, vedendo quello che sto facendo adesso, avrei dubbi anch'io, avrei dubbi anch'io, ma nel senso, cioè, se ci pensi, è facile. Grazie.